Buongiorno, bentrovati lunedì 28 ottobre 2019, il primo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa, la lettura dei quotidiani che troverete oggi in edicola, apriamo con il centro con l'edizione di Pescara, poi nella seconda parte parleremo come sempre in maniera dettagliata di sport ed in particolare di calcio, ieri in serie D tre derby andremo a vedere i servizi e vedremo anche il servizio sulla vittoria a suon di gol del Teramo con la Casertana, ma andiamo per ordine, iniziamo con la prima pagina del centro edizione di Pescara, eccola qui controlli su revisioni e polizie auto, stretta della Polizia Municipale di Pescara sulla sicurezza in strada, 565 multe da inizio anno. Lo sport, il Pescara ritrova l'ottimismo, vedete nella foto i giocatori biancazzurri, in particolare Memusciai e Fiorillo, ma perde proprio il portiere biancazzurro, il suo capitano, l'infortunio rimediato nella gara in casa con il Benevento, è stato più grave del previsto, la frattura della mano per il portiere del Pescara che sarà costretto a saltare 5-6 gare, una tegola per la formazione biancazzurra, domani sera nel turno infrasettimanale di Castellamare di Stabbia, giocherà Castrati. Vediamo le altre notizie, oggi in Consiglio Comunale a Pescara si parlerà anche di sfollati di Via Lago di Borgiano in 23, sono ancora senza casa, a Tessa lutto e dolore in fabbrica, operaia di 52 anni, muore dopo un malore al Sevele. Poi l'attore con la tricesta, Fabio Fulco a Pescara tra i bambini malati. Torniamo allo sport, vediamo il campionato regionale di eccellenza che ha regalato ieri il Tris al Pene che ha battuto il Capistrello e mercoledì nel turno infrasettimanale c'è la Bagica Lupo Vasto. Vediamo la prossima pagina che è quella di Chieti Lanciano Vasto, in questo caso vedete il titolo di apertura riguarda proprio questa tragedia accaduta da questa operaia della Sevele che si è accasciata e poi è deceduta in ospedale, sono stati donati gli organi. Vediamo anche un titolo nella parte alta della pagina che riguarda la politica nazionale in particolare il voto in Umbria, ieri si è votato proprio nella regione Umbra e c'è stato il trionfo per certi versi, almeno nelle proporzioni inatteso di Salvini, ha stravinto la candidata del centrodestra Tesei. sconfitti Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, questo è un test sicuramente negativo per il governo. Vediamo poi il lunedì dello sport con il Lanciano Super Miccichè, la formazione rossonera vince ancora e continua a volare in testa alla classifica. Vediamo le altre notizie. Nelle cronache il duplice omicidio di Ortona uccise moglie amica, non ci fu crudeltà. Vasto, anziani truffati con il finto incidente e poi a Chieti il piano commercio, maggioranza spaccata. Torniamo a parlare di sport, vediamo quello che è accaduto in Serie D, Chieti e Vastese KO ieri nei rispettivi derby, all'Aragona e contestazione dei tifosi nei confronti della squadra di Amelia, per il Chieti con tante assenze, battuta d'arresto di misura a Giulianova. Vediamo il centro, edizione di Teramo, muore dopo una lite violenta, alba adriatica la vittima e un 76enne inchiesta della Procura della Repubblica, è stata disposta anche l'autopsia. Vediamo poi in basso il Teramo, lo dicevamo prima, vola, terza vittoria consecutiva, ieri 4 a 3 alla Casertana in Serie D, festa per le Teramane, vincono tutte e tre nei tre derby, notaresco a Basto, il Giulianova con il Chieti ed il Pineto con l'Avezzano. Vediamo le altre notizie, sui monti della Laga scivola per soccorrere l'amico, è grave, e poi Teramo si scoprono evasori di vecchie tasse nulle e poi Movimento 5 Stelle firme contro il nuovo ospedale, raccolte 330 adesioni. Vediamo la pagina di L'Aquila, Avezzano sul Mona, rapina armata al manager dei VIP, Avezzano con l'angelo fermato in auto dai banditi, presi gioielli e denaro contante. Vediamo poi lo sport, lo sport del lunedì, in questo caso in chiave marsicana, Avezzano spuntato, sinchina al Pineto che vince 1 a 0, poi Navelli costituita l'associazione Borghi d'Abruzzo, modello vincente, L'Aquila, Polofiere e Polemica sul progetto Bazzano e poi sul Mona, oltre 100 tirocinanti nelle aziende ed enti. E poi il calcio con Di Francia che fa volare L'Aquila, la capolista prova la fuga. Vediamo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero, ecco qui il titolo di apertura, due violenze nello stesso giorno, terramo shock, perseguitata e violentata, stalker aguzzino preso mentre tenta la fuga e poche ore dopo una ragazza denuncia abusi sessuali ad una festa, vicenda da chiarire. Francavilla picchiato dal pugile che insegna ai bimbi, un uomo di 64 anni pescarese e ricoverato in rianimazione all'ospedale di Pescara. Poi cantine memorabili premiato Marramiero. Vediamo le altre notizie. Giù nella cascata gravissimi due escursionisti a Crognaleto. Vediamo ancora in basso la sicurezza. Ci porta all'Aquila, parchi sorvegliati dalle telecamere. Dunque nel capoluogo di Regione. Vediamo in alto, si parla di calcio. Sebastiani vede i playoff per il Pescara ma Fiorillo va K.O. Vi ricordo il turno infrasettimanale di domani sera con il Pescara che giocherà alle 21 al Menti di Castellammare di Stabia. E poi Serie C, un grande termo al Bonolis batte la Casertana. Poker di gol, Serie D, Giulianova, Notaresco e Pineto vincono i derby. Ieri tre derby in Serie D. Lasciamo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Andiamo a vedere invece le prime pagine dei quotidiani nazionali. Ovviamente grande spazio al test Umbro con le regionali. Un test che potrebbe avere qualche riflesso sul governo e dunque a livello nazionale. Apriamo con il Corriere della Sera. Vedete il titolo di apertura. Salvini trionfa, colpo al governo, voto in Umbria, crollano i 5 stelle, frena il PD. L'Alleanza fallisce la prova. Il terzo partito è Fratelli d'Italia che supera nel centro-destra. Forza Italia, il leader leghista, impresa storica, Tesei presidente con il 58,2%. La regione cambia guida dopo 50 anni. Regione Lumbria, tradizionalmente di centro-sinistra. E in Turingia, l'ultradestra del Duroc supera la CDU. Siamo in Germania dove anche in questo caso c'è un risultato positivo. In questo caso però per l'ultradestra. gridava, piangeva, il capo dell'Isis è morto da Codardo. Il racconto di Trump si è fatto esplodere con i tre figli. Vediamo la prima pagina di Repubblica. Lo dicevamo prima, c'era una volta l'Umbria rossa, regione tradizionalmente di centro-sinistra. E ieri c'è stata la svolta a destra. Ex-Paul trionfa la candidata di Salvini. Distracco di oltre il 20% dal candidato del centro-sinistra. Crollano i 5 Stelle democratici in calo. Zingaretta ai suoi. Questa è l'eredità lasciata da Renzi. Dunque polemiche all'interno del centro-sinistra. Raida americana ha ucciso il califo. Attaccato il covo di al-Baghdadi era in Siria. Trump a Codardo si è fatto esplodere con i figli, ha detto il presidente americano. Vediamo il prossimo quotidiano, che è il fatto quotidiano. L'Umbria va sul carro di Salvini. I 5 Stelle pagano il patto con il PD. Questo è il titolo di apertura. E poi al-Baghdadi è morto, tradito da una moglie. In alto, dall'India all'Italia, il batterio killer è creato dai farmaci. L'inchiesta sulla trasmissione Report. Vediamo il giornale Asfaltati. Titola il quotidiano milanese. In Umbria finisce 60-35. Si parla ovviamente delle regionali. Storica vittoria del centro-destra unito. Vola la Lega. Un centro-destra sempre più a trazione. Lega. Scacco all'Isis. Ucciso il califo del terrore. Questo è il titolo nella parte centrale della pagina. Vediamo anche Libera. Il centro-destra prende l'Umbria. Sinistra stracciata. Esordio fallimentare dell'Alleanza. Movimento 5 Stelle e PD. Leu Italia viva. Dopo 49 anni di amministrazioni rosse, la Regione manda a casa per la prima volta i compagni. Scrive Libero. Il capitano Matteo Traina. La coalizione Libero Asilo e Libero Giornale. Vedete i bimbi dei cronisti hanno accesso e cure in redazione. I bimbi, i figli dei giornalisti di Libero hanno libero accesso, scusate il gioco di parole, proprio nella redazione del quotidiano milanese. Vediamo il messaggero nazionale Umbria disfatta del patto PD Movimento 5 Stelle. Exit poll. Regione al centro-destra. T6 tra il 56 e il 60%. Blitz americano. Al-Baghdadi si fa esplodere. Con sé ha ucciso i tre figli. Trump, il capo dell'Isis, è morto da codardo, ha detto il presidente americano. E poi siamo a Roma. Omicidio di Luca, fidanzata dai PM. Troppi punti oscuri. Vediamo anche il mattino di Napoli. Umbria, il patto Movimento 5 Stelle PD va a K.O. Regione al centro-destra. T6 al 58%. Vediamo anche qui sul mattino il titolo che riguarda l'uccisione del capo dell'Isis, tradito da una delle tre moglie. Poi il calcio, il ritorno del cecchino Milic, ma il Napoli si ferma al palo. Partenopei che non vanno oltre il pareggio sul campo della Spal. Vedete poi il quotidiano La Verità, Asfaltati. Storico, l'Umbria passa al centro-destra, disfatta dell'inciucio di governo, scrive il quotidiano La Verità. Eliminato al Baghdadi, macellaio capo dell'Isis. Vedete questo il titolo più in basso. E poi in fondo c'è un titolo che riguarda il Papa. C'è allarme, il Papa mette le mani sulla dottrina. Il grande scrittore cattolico Vittorio Messori, ormai anche Bergoglio, teme lo scisma. Vediamo il sole 24 ore dagli scontri nei conti bancari, lotta all'evasione con i dati anonimi. Privacy con le informazioni oscurate saranno definiti profili di rischio per stanare chi non paga. Aumento per i professori fermo ad 85 euro, si parla del contratto della scuola. E poi il fascicolo sanitario elettronico, ora punta, lo vedete, al portale nazionale. Questi gli argomenti principali del sole 24 ore. Siamo al quotidiano La Stampa di Torino, blitz americano, il feroce capo dell'Isis a Baghdadi. Si fa esplodere nel suo bunker. E poi Valanga Salvini su PD e 5 Stelle, quasi 20 punti di distacco. Vediamo anche il tempo. Bacioni per Uggina, questo è il titolo del quotidiano romano, dopo 70 anni. L'Umbria si libera della sinistra, un mare di gente alle urne per mandare a casa il sistema di potere rosso. Stravince la candidata della Lega, la riscossa di Salvini, parte da qui e punta a Palazzo Chigi. Scrive il tempo. Vediamo anche il secolo punto it. L'Umbria lì seppellisce, Conte e compagni travolti, ancora una volta, dal voto regionale. Trionfa il centrodestra. Vediamo altri titoli. Finisce l'incubo del califfo, ammazzato al Baghdadi. E poi anche la Craxi con Giorgia, no al metodo Repubblica. Infine, omicidio di Luca Sacchi. Anastasia deve chiarire. Vediamo il secolo XIX. Umbria, Salvini vince a mani basse. Le urne bocciano l'alleanza PD Movimento 5 Stelle. Vedete anche la foto che riguarda il blitz americano in Siria. Molto il leader dell'ISIS al Baghdadi. Trump scappava e piangeva. Poi si è fatto esplodere, ha detto il presidente americano. Lasciamo dunque l'edicola nazionale. Possiamo tornare al quotidiano il centro per ripartire da pagina 2 per vedere il titolo in alto che riguarda il caro Pedaggi che sbarca in consiglio regionale. A 24 e a 25 un documento dice no agli aumenti. Domani sarà votato da maggioranza e opposizione. La grande vetrina protagonista a Matera presentosa in ricami. L'Abruzzo conquista la capitale della cultura dalle ceramiche di Castelli e Rapino al Tombolo di Pesco Costanzo. in mostra con la CNA la tradizione dell'artigianato artistico locale. Andiamo avanti. Pagina 3. Sanità, affidamento d'oro, appalto CUP scaduto. Costerà 52 milioni. Corsa contro il tempo della regione per bandire la gara dei centri di prenotazioni delle ASL. Sono due mesi di tempo, solo due mesi, per evitare il caos. Livelli di assistenza sanitaria. L'Abruzzo è nella top ten. Ecco le classifiche del Ministero. In basso, oggi l'aggiunta vota la delibera del manager ASL di Pescara. Giorno, probabilmente o forse decisivo per il bando, la Federazione Veterinaria e Medici contro Caponetti. Vediamo le pagine dalle province. Partiamo da Pescara. Sicurezza in città. Revisione e assicurazione dell'auto. 565 multe dall'inizio dell'anno. La Polizia Municipale si affida al dispositivo street control per scovare i veicoli non in regola. In due ore controllati 1119 veicoli e rilevate 14 violazioni con importi che vanno da 173 a 868 euro. Cimiteri ultimi lavori per la festa dei defunti. Anche nei cimiteri di Pescara Colli e di San Silvestro si lavora per la ricorrenza dei defunti. Sabato a San Silvestro ci sarà la messa con il vescovo della diocesi di Pescara Penne, Monsignor Valentinetti. Sfollati di via Lago di Borgiano si riaccende. La polemica siamo sempre a Pescara. Oggi a Proda in Consiglio Comunale il caso delle 23 persone ancora senza casa. Il consigliere catalano del PD e il comitato Rancitelli contro l'assessore del Trecco. E poi Naiadi, chi paga spese e bollette in mancanza di convenzione? Questa è la domanda che si fa e che pone alla Regione il consigliere regionale del PD, Blasioli. Gian Pietro, altro consigliere comunale, in questo caso del Partito Democratico, su via del circuito dice nessun rischio idrogeologico per la bretella. Andiamo avanti. Solidarietà, l'attore Fabio Fulco al fianco di Adricesta per aiutare l'ospedale di Pescara. Il protagonista di alcune serie TV visita i piccoli ricoverati, ora sono nella squadra dell'Associazione. E ci resterò. Vediamo la cronaca, sempre a Pescara in questo caso. Picchi agli agenti dopo la lite preso e poi poliziotti aggrediti dopo la rissa. Il tifoso tedesco chiede scusa. Proseguiamo. Appalto revocato, il TAR dà ragione al Comune. Siamo a Pianella dopo l'aggiudicazione della gara da 5 milioni di euro per il Global Service. emerge una differenza onerosa e il sindaco riconosciuta. La nostra correttezza, ha detto il primo cittadino di Pianella, Sandro Maninelli. Francavilla sempre grave, il ristoratore preso a pugni, ricoverato in rianimazione all'ospedale di Pescara. E a spoltore arrestato ladro di automobili in trasferta. Siamo alla pagina di Chieti e della provincia di Chieti, sempre dal centro. Duplice omicidio, uccise moglie amica a coltellate, ma per i giudici non ci fu crudeltà. Così la Corte d'Appello ha escluso l'ergastolo e confermato la condanna a 30 anni per Marfisi. E poi trovato morto nel letto dal fratello, aveva 55 anni, indaga la polizia. Andiamo avanti, la tragedia, malore alla seve, l'elutto in fabbrica, muore dopo due giorni. Operaia di 52 anni di Fossa Cesia si accascia durante il turno di notte. Poi il decesso all'ospedale di Pescara. Sono stati donati gli organi con uggenze parabili, ma divisi al cimitero. Lanciano la protesta di un figlio, le tombe di mio padre e mia madre, lontane per colpa della burocrazia. Abbasto, finto incidente, truffata un'altra anziana. Tuo figlio è rimasto ferito, devi pagare così uno sconosciuto. Le porta via l'oro e 3.000 euro. Siamo alla pagina dell'Aquila, del centro. È stata costituita a Navelli l'associazione Borghi d'Abruzzo, modello vincente, più turisti. E il prezzo delle case vola. I sindaci di 27 comuni regionali e del Molise firmano la messa in rete dei centri storici più belli. A Rocca San Giovanni, 30.000 presenze in più. Paolo Federico dice un atto fondamentale per il turismo. E poi affollata la Basilica di Santa Maria di Colle Maggio, aperta dal Cardinale Petrocchi, la visita pastorale che si concluderà a marzo del 2023. Aggressione nel fucino, colpo nella notte, rapinato Colangelo, il manager dei VIP. I banditi hanno fermato la sua automobile e gli hanno puntato la pistola alla testa. Lui un'esperienza terribile. Commercio ad Avezzano ha attivato uno sportello filtro per pratiche rapide al CAM. E poi Collarmele, centrale, si inasprisce lo scontro. I sindaci di Collarmele, San Benedetto e Pescina dicono no dopo un incontro sulle biomasse. Andiamo in basso, ci spostiamo in Valle Peligna, Raiano, lavori alle gole di San Venanzio, protestano gli ambientalisti. Sul Mona il 30, un incontro sulla comunicazione di eventi calamitosi. E poi Cocaina al via gli interrogatori a Sul Mona. Lasciamo questa pagina per spostarci sulla pagina di Teramo del quotidiano Il Centro. Teramo e provincia, in questo caso siamo in Val Vibrata. Ad Albadriatica muore dopo una violenta lite in strada. La vittima è un ex imprenditore di 76 anni. La procura apre l'inchiesta, disposta all'autopsia. Potrebbero esserci indagati. E poi la denuncia a Teramo, violenza sessuale. La polizia sente conoscenti e amici. Andiamo poi a Mociano Sant'Angelo, stroncato da un infarto. A 52 anni si è accasciato a terra mentre stava passeggiando con il cane. In basso siamo invece a Crognaleto, sempre in provincia di Teramo. Scivola per soccorrere l'amico e grave. Incidente alle 100 fonti in una zona vietata. A 2,42 anni di Pescara recuperati con l'elicottero. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Allora possiamo andare a vedere insieme le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero. E poi parleremo di sport prima della pausa. Siamo alla pagina di Pescara del messaggero. Università Lex Cofa approda in aula la revisione del DUP. Questa mattina il Consiglio Comunale, i piani di sviluppo. Il nodo MIBE, la partita per la caserma dei Vigili del Fuoco. Sul tavolo dei consiglieri comunali. E poi l'ite vivace in corso Vettore Emanuele. Agenti delle volanti riportano la calma. Alla Marina Sud è preso dai carabinieri mentre ruba una BMW. E poi Francavilla insegna a box ai bambini. L'aggressore del ristoratore Cicalini. Cicalini a Pescara rissa al bar nella notte. Un arresto in Viale della Pineta. Vediamo la pagina dell'Aquila. La pagina dell'Aquila del messaggero. Parco del Castello e del Sole. Subito la videosorveglianza. Nelle due grandi aree verdi si interverrà. Entro breve troppi attacchi dei vandali. E poi l'evento. Invasione nel centro storico. Un successo. La mezza maratona. Vediamo poi altre notizie. Guardia di finanza. Sigarette vendute ai minorenni. Tabaccai. Multati. Andiamo avanti. In basso. Si parla di goal ball. Cerimonia inaugurale degli europei. Oggi all'Aquila. Con la sfilata degli atleti. A San Bernardino. A Piazza Duomo. Domani via alle gare. Al campo. Centi. Colella. Andiamo a vedere la prossima pagina. Quella di Avezzano e Sulmona. Autostrade. La protesta si spacca. Da Vicovaro a Roma. Non è zona montana. Alcuni dei sindaci antirincari. Vogliono così far gravare i costi. Soltanto sull'Abruzzo. Ma anche per la ferrovia da Roccasecca. Arrivano contestazioni. Va chiusa. Da sola lamentano lunghe soste. Ai passaggi a livello. Tagliacozzo. Blizzi in consiglio del presidente della provincia dell'Aquila Caruso. E poi le eccellenze. Ingegnere Pratolano in cattedra a Tokyo. Sulmona. Protezione civile. Cittadini protagonisti in una serie di incontri organizzati proprio dalla protezione civile Peligna. Siamo alla pagina di Chieti del messaggero. Di scariche abusive in strada. Il comune contro gli incivili. Aumentano i casi di rifiuti abbandonati senza controllo dalla periferia al centro. Sciopero in Sevella. Cerbo e i sindacati contro l'assessore regionale Febbo. E poi Ortona al via nuove attività per l'aggregazione giovanile. In basso siamo a Cupello. Civeta incontro pubblico. Dopo il rogo sono stati invitati i sindaci del territorio. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero. Donna violentata dallo stalker. Abusi dopo la festa. Si indaga due distinti episodi di stupro. Venerdì già fermato il persecutore Aguzzino. Più oscuro il parti finito in incubo. È stato denunciato da una 27enne. Vediamo un'altra notizia. Il gruppo Amadori investe possibili nuove assunzioni nella nostra regione. Poi Giulianova. Devastazioni al Parco Franche. Oggi scatta la riqualificazione. Scuole all'estero. Tercas. Borse di studio per Intercultura. Andiamo poi in basso. La cronaca. Crognaleto giù nella cascata. Gravissimi due amici. Sono stati soccorsi dal 118. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport. Allora possiamo aprire la pagina sportiva. Prima di fermarci per qualche istante. Con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Il Milan vede le streghe. Errori clamorosi. Pioli deluso. La Roma all'Olimpico vince 2-1. Vicina al quarto posto. La formazione capitolina. I gol di Dzeko e di Zaniolo. Atalanta dove vuoi arrivare. Vedete il titolo. Sette gol all'Udinese. Vetta a tre punti. Mercoledì con il Napoli. Ci sarà una gara davvero tutta da seguire. In basso. Inter per Conte e Missione Vidal. Juve per Sarri. Ioia e Dolori. Perché c'è Di Bala che sta facendo bene. Ma ci sono dei problemi in difesa con De Leite. E con Bernardeschi in attacco. Che non è più il giocatore della passata stagione. Corriere dello Sport. Erpupino. Vedete il titolo. Con l'esultanza di Zaniolo dopo il gol al Milan. I romanisti vincono per 2-1 sui rossoneri. Sempre più in crisi. Nonostante l'arrivo del nuovo allenatore Pioli. Vediamo poi altri titoli. Il Napoli paga. L'Eurotassa è pari con la SPA. L'Eurotassa perché le partite europee evidentemente influiscono sul rendimento dei campani. Poi Atalanta Show. Cala un sette bello contro l'Udinese. Poi la Lazio decolla. Ciro fa la storia. Firenze protesta. Andiamo a vedere anche Tutto Sport. Record Dea. Dea che sta per Atalanta. Spettacolare. Sette a uno contro l'Udinese. Tripeletta di Muriel. Doppietta di Ilicic. Fa festa Gasperini. E poi Macchettoro avete visto. Dopo l'uno a uno con il Cagliari. Ci sono visioni differenti. In casa Granata. Juve. Cristiano Ronaldo. Tartufo d'oro. Rientrerà con il Genova. L'attaccante. Juventino. Allora possiamo fermarci per qualche istante. Tra poco torneremo in studio e parleremo di sport regionale partendo dal calcio. Di nuovo in studio. Seconda parte di Mattino 6. Siamo allo Sport. Le pagine del centro per vedere quello che è successo un po' più nel dettaglio nel campionato di Serie A. Milan di male in peggio dopo la sconfitta con la Roma. Rosso e Neri a tre punti dalla zona. La retrocessione. Gecco e Zaniolo spingono il diavolo in basso. Vediamo poi le altre partite. Spal Napoli 1 a 1. Napoli rimanda il decollo. E poi come dicevamo Atalanta-Odinese 7 a 1 per la formazione nera-azzura. Davvero una giornata da incorniciare. Vediamo le altre partite con giocate ieri. La vittoria della Lazio a Firenze per 2 a 1. Il pareggio tra Torino e Cagliari per 1 a 1. E la vittoria del Bologna con la Sampdoria per 2 a 1. C'erano stati poi i pareggi dell'Inter in casa con il Parma sabato. La vittoria venerdì del Sassuolo a Verona. Il pareggio sempre sabato della Juventus a Lecce. Parliamo del Pescara e dunque del campionato cadetto. Domani la sfida alla Juve-Stabbia. Pescara alla prova del 9. Fiorillo KO. Delfino a caccia di conferme. Zauri si gode la cooperativa del gol. Ma il portiere si frattura la mano e starà fuori. Più di 40 giorni. Un brutto colpo per il Pescara a Castellammare di Stabbia. Giocherà tra i pali castrati. Vediamo quello che accade proprio in casa dei Campani. Germoni squalificato. Del sole scalpi. Dal posto del terzino giocherà Ricci. L'ex Biancazzurro potrebbe partire nel tridente. Ieri il posticipo. 1-1 a Cremona. Tra Cremonese e Frosinone. Dionisi gol. Non basta la formazione di Ciociara. Palombi evita il KO. Alla squadra Lombarda. Allenata da Baroni. Ex tecnico del Pescara. Siamo al Teramo. Dunque la Serie C. Teramo tre vittorie consecutive. Entra in zona playoff. Teramo festeggia nella sagra del gol. 4-3 con la Casertana. Messa sotto in avvio. La formazione campana ha reagito. E' restata in partita fino alla fine. Ma il Teramo è riuscito a vincere per 4-3. Tra poco vedremo il servizio. Andiamo a vedere il messaggero. Ripartendo in questo caso invece dal Pescara. Ottimo Pescara. Ce la giochiamo. Il presidente Sebastiani lancia la sfida. Dopo la stupenda vittoria sulla capolista. E poi come dicevamo. Tegola-Fiorillo. Mano fratturata. Due mesi di stop. Macin e Palmiero. La chiave di volta del Pescara. Giocatori che hanno trascinato alla vittoria. Biancazzurri. Siamo alla Serie C. Il Teramo. Teramo col batticuore si rilancia. Albonolis. 4-3 con la Casertana. Tedino usa bastone e carota. Bravi davanti. Poi disattenti. Torniamo al centro. Per vedere prima del servizio. Quello che è accaduto nelle gare della giornata di ieri. Avellino-Regina 1-2. Bisceglie-Francavilla 0-1. Catania-Bari 0-0. Catanzaro-Rende 1-1. Cavese-Rieti 0-2. Monopoli-Potenza 3-0. E poi Picerno-Paganese 2-0. Vibonese-Ternana 1-1. Viterbese-Sicula-Leonzio 2-0. E allora andiamo a vedere il servizio sulla vittoria del Teramo al Bonolis. Con la Casertana e servizio di Agna Cantagalli. Contro la Casertana arriva il terzo successo consecutivo per il Teramo. I biancrossi battono 4-3 la formazione di Ginestra. Al termine di una gara densa di emozioni, mai davvero chiusa tra bravura degli attacchi e qualche errore nelle fasi difensive. La Casertana inizia sbattendo contro il muro che alza Cristini sulla ribi. Ma i primi 20 minuti di gara mostreranno soprattutto la buona qualità di manovra del Teramo. Che prima del quarto d'ora strapperà anche gli applausi del Bonolis. Mungo è il protagonista di giornata, iniziando con un pallone stoppato e lasciato in area per Ilari che spara alto. Il gol arriva grazie ad un'apertura illuminante di Bombaggi, proprio per l'ex Cosenza. Che in area perde il tempo, ma è bravo poi ad infilare Crispino per il vantaggio biancorosso. Zito fa le prove di quello che sarà poi il primo gol della Casertana al ventesimo. Ma i falchetti si rendono pericolosi soprattutto con il dialogo tra Laribi e Paparusso, che però per due volte non trova la porta. Il Teramo raddoppia al ventesettesimo. La Casertana vasticcia, Mungo ne approfitta e lascia Costa Ferreira, che con un rasoterra firma la prima rete stagionale della nuova vita in biancorosso. Al trentacinquesimo Paparusso si mette in proprio e lascia per Cavallini, che trova però pronto Tomei sul primo palo. Starita, il migliore dei suoi, prova a piazzare poco dopo sul palo più lontano, non trovando di poco la mira giusta. Magnaghi ha invece una doppia occasione prima di rientrare negli spogliatoi, prima raccogliendo un cross di Cancellotti e poi provando la conclusione personale, quando magari sarebbe stato meglio servire Ilari. I calci di punizione si confermano però punto debole del Teramo, quando Zito, al quarantacinquesimo, firma il 2-1 e riapre la contesa. Nella ripresa Ginestra passa la difesa a quattro, ma al nono Ilari si beve il centrocampo ospite, lascia Mungo, che a sua volta chiama Tentardini al cross in mezzo. Bombaggi, neanche a dirlo, è più bravo degli altri in aria, sigla il Tris e la quinta rete personale con la maglia del Teramo. Passano tre minuti e la Casertana accorce di nuovo. Qualcosa non funziona sulla difesa zona del diavolo. Paparusso sfugge e firma il 3-2. Al quarto d'ora il Teramo ha da calci di punizione di Bombaggi un'altra clamorosa occasione, ma dopo un batte e ribatti la palla finisce incredibilmente sul foglio. Dopo la mezz'ora arriva la ciliegina sulla torta di giornata per Mungo, che va via palla al piede, chiama Crispina ad uscire e lo beffa con un lob che finisce in porta, complice anche la scivolata del portiere. Potrebbe essere, ma non è il colpo del K.O., perché Sarita, due minuti più tardi, riapre di nuovo la gara con un bel diagonale. La Casertana ci prova nel finale, mentre il Bonolis offre la standing ovation a Mungo. Il Teramo gestisce bene la pressione dei minuti che mancano e mette in cascina tre punti che valgono la zona play-off. Domenica prossima contro il Briceglie, ancora il Bonolis, l'occasione per centrare il poker di successi. Siamo alla Serie D per parlare del primo dei tre derby giocati ieri nel Girone F. Riscatto Giulianova, vedete il titolo del centro, Chieti, K.O. sul rigore. L'ex suriano dal dischetto decide un derby equilibrato risolto da un episodio. Bartolini, lo ha fatto ai nostri microfoni ieri, ha annunciato l'ingaggio di Ivan Castiglia, che dunque sarà il primo rinforzo per il Giulianova. Giulianova, grandoni puliti solo da un episodio del grosso. Grande reazione. Dunque andiamo a vedere le immagini del derby giocato al Rubens Fadini, dove Giulianova ha superato di misura il Chieti per 1-0. Vittoria di rigore nel derby del Rubens Fadini, dove i padroni di casa abbastano un gol di suriano dagli 11 metri in avvio di ripresa per superare il Chieti e riscattare la pesante battuta d'arresto di Fiuggi. Per i neroverdi un K.O., figlio delle tante assenze di un secondo tempo timido dopo una buona prima parte di gara. Padroni di casa con il 3-5-2, Teatini rimaneggiati per le assenze di Veneri, Ricci e Traini, che rispondono con il 4-4-2. Al Fadini ci sono 700 spettatori dove dirige Andrea Ancora di Roma 1. Derby del cuore per il tecnico Giuliese Federico del Grosso per diverse stagioni in maglia nero-verde. Gara che nei primi 20 minuti non regala alcuna emozione. Al 22esimo angolo di Antonelli per il Giulianova è uscita con i pugni di Camerlengo che allontana la sfera. La gara resta bloccata con le due squadre che praticamente si annullano e con le emozioni che così latitano. Al 36esimo opportunità per gli ospiti con il portiere Di Piero che con i pugni anticipa gli avanti nero-verdi. Al 37esimo ghiotta opportunità per il Chieti con un tiro di Mazzolli dai 25 metri con il pallone che scheggia la parte superiore della traversa e finisce sul fondo. Al 43esimo Bagigalupa l'occasione per regalare agli ospiti il gol, ma sulla sua incornata sottomisura il portiere Giuliese Di Piero è miracoloso e salva. Sul finire di tempo si infortuna nel Chieti anche Vittiglio costretto a restare negli spogliatoi e sostituito ad inizio di ripresa dal figlio d'arte Gautieri. Per la squadra di Grandoni si allunga così la lista degli indisponibili. Il Giulianova in apertura di ripresa cerca di approfittarne e sposta in avanti il baricentro del gioco. All'ottavo ci prova Suriano, ma la sua conclusione è bella stilisticamente, ma non precisa. Il gol è rimandato di pochi minuti. Alla decimo infatti i padroni di casa trovano il vantaggio, sempre con lo stesso Suriano, che trasforma un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un contatto in area teatina fra Barlafante lanciato a rete e di le portiere del Chieti Camerlengo, che appare nella circostanza piuttosto ingenua con l'attaccante giallorosso che si era allungato il pallone. Si infiamma il derby dopo il vantaggio dei padroni di casa con la squadra ospite che accusa il colpo e stenta a reagire. Al ventunesimo Mazzolli prende però la mira dei 25 metri, ma mette il pallone fuori misura. I padroni di casa al venticinquesimo ci riprovano questa volta su punizione di Fioretti, che mette il pallone di pochissimo sopra la traversa. Al trentaduesimo viene ammonito per proteste l'allenatore del Giulianova Federico del Grosso. Le due squadre intanto si allungano, ma gli ospiti non riescono mai veramente a rendersi pericolosi. Al quarantesimo ci prova il nuovo entrato di Marco, ma para a terra di Piero. Al quarantaquattresimo viene poi allontanato dalla panchina per proteste il tecnico della formazione di casa del Grosso con gli animi che si scaldano in campo negli ultimi minuti. Poi sei minuti di recupero in cui il Giulianova non corre rischi, portando così a casa una vittoria pesantissima. Per il Chiete arriva un'altra sconfitta, ma nelle prossime giornate con il rientro di diversi titolari le cose potrebbero cambiare. Vediamo il titolo del derby sul messaggero, il derby del Fadini. Il Real Giulianova ha tre punti pesanti, vedete battuto il Chieti, Suriano su rigore realizza il gol decisivo che vale la vittoria. Da un derby all'altro, Lavastese si arrende al rullo notaresco, ottava vittoria di fila per la formazione del presidente Di Giovanni. Ancora in gol l'ex pescarese Marco Sanzovini, Masticamaro il pubblico dell'Aragona, il pubblico di fede aragonese, con questa sconfitta che ha fatto mugugnare una parte della tifosiria. Allora andiamo a vedere il servizio realizzato da Jacopo Forcella con la vittoria del notaresco in casa della Vastese. Il notaresco sale sull'ottovolante, tiene la testa della classifica, stavolta a cadere per mano della coca polista e Lavastese, battuta da una rete di Marco Sanzovini ed inizio ripresa. La banda Vagnoni, il notaresco 2.0 è persino più cinico e vincente di quello di Mirko Cudini della passata stagione. Padroni di casa senza palumbo ma con esposito e stivaletta ai lati di Dos Santos, mentre il tecnico rosso-blu conferma Romano e Sanzovini e a blando consegna il compito di ispirarli tra le linee. Lavastese approccia meglio la partita con il notaresco che perde per infortunio dopo nemmeno 5 minuti Davide e Salvatori al suo posto entra Gallo ma è la squadra di Amelia a rendersi pericolosa al settimo Dos Santos libera il destro affilato di vittorio esposito su cui Ginestra è superbo l'azione prosegue e stivaletta manca di poco lo specchio della porta. Aragonesi che il gollo troverebbero anche al tredicesimo ma con Pollace in posizione di offside al momento della battuta del piazzato ancora di esposito. Nell'intervallo Amelia inserisce Cavuoti per Ravanelli, Vagnoni butta nella mischia Cancelli per Fagioli ma nemmeno due minuti e Sansovini da fuori classe gira alle spalle di Diri Enzo un destro capolavoro su servizio di Frulla per il vantaggio Rosso-Blu l'ammazzata scuote la vastese che dopo due minuti reclama per la posizione di stivaletta irregolare per il primo assistente chiamata che fa infuriare la parte bianco-rossa dell'Aragona vehemente la reazione dei parroni di casa che prima hanno un brivido sulla conclusione mancina di Romano che coglie all'esterno della rete ma poi sfiorano il pari con Francesco Esposito fermato però in fuorigioco ancora una volta dopo aver fallito un'occasione che pareva semplice il notaresco cerca di allentare la tensione Frulla non inquarra la porta prima dell'ingresso di Alonzi per Stivaletta Vagnoni richiama Romano per Gaetani ma è cancelli a sfiorare la rete del raddoppio al 76esimo dopo una corta respinta dalla difesa di casa il resto è un'attesa per il treplice fischio che condanna gli aragonesi ad un altro stop interno festa invece dall'altra parte per il notaresco in serie aperta positiva di vittorie da 8 settimane l'araccanatese non molle è vero ma i rosso-blu sono la vera grande realtà del Girone F E questo il servizio sulla vittoria del notaresco vediamo il centro proprio nella pagina dedicata al derby giocato allo stadio Ragona Sansovini eccolo qui è intramontabile colpo notaresco Vastese K.O. il 39enne bomber segna il gol che consolida il primo posto con la recanatese Amelia una furia scusate meritavamo di più serve pazienza vediamo anche abbiamo un po' di tempo in più questa mattina anche i voti per quanto concerne questo derby partiamo dalla Vastese Di Rienzo 6 Pollace 6,5 Cacciotti 5,5 Giorgi 5,5 Pompei 6 Esposito Francesco 6 Bardini 6 Cavoti 5,5 Dosantos 5,5 Stivaletta 6 Alonzi 5,5 Vittorio Esposito 5 vediamo le pagelle del notaresco Ginestra 6 Di Stefano 6,5 Gallo 6 Pomante 6,5 Ghiani 6 Mele 6 Frulla 6,5 Romano 6,5 Gaetani 6 Fagioli 6 Cancelli 6 Sanzovini 7 Liguori 6 Andiamo avanti per anzi torniamo indietro per andare a vedere con il corredo di questo titolo il prossimo servizio lo faremo tra qualche istante per il terzo derby di giornata ieri in Serie D gara che si è giocata al Mariani Pavone dove il Pineto ha sconfitto anche in questo caso di misura l'Avezzano per 1-0 il gol di Pepe segnato nella ripresa Avezzano senza gol e idee il Pineto la batte in 10 il presidente Paris al 91 dice poco carattere arriveranno i rinforzi allora andiamo a vedere il servizio sulla gara di Pineto realizzato per noi da Roberta Di Sante Va al Pineto il derby del Mariani Pavone contro l'Avezzano la formazione di Racchini batte di misura i biancoverdi del neotecnico Liguori grazie ad un gol del capitano Alfonso Pepe nonostante l'inferiorità numerica dal settimo della ripresa per l'escursione di D'Angelo l'Avezzano regge un tempo ma non riesce mai ad essere veramente pericoloso entrambi i tecnici confermano in toto le formazioni schierate domenica scorsa solito 4-3-3 per Racchini con Acquadro che vince il ballottaggio con l'ex Bianciardi a centrocampo 4-2-3-1 per Liguori con Gaeta terminale offensivo supportato da De Costanzo traditi e Diop gara equilibrata in avvio primo squillo al quarto d'ora Acquadro mette in mezzo sponda di speranza essi se che non aggancia sul secondo palo episodio d'amo viola al ventiduesimo Pippi raccoglie il traversone anticipa Fanti e Magri in chiusura e lascia partire il pallonetto che Brunetti salva sulla linea tra le proteste dei locali che vorrebbero il gol ma il direttore di gara Valerio Bogliacco della sezione di Bari lascia proseguire col passare dei minuti il Pineto cresce e spinge in avanti mentre l'Avezzano si difende e cerca di ripartire senza però riuscire a pungere anzi alla mezz'ora è ancora il Pineto a sfiorare il vantaggio con un'azione personale di un mobile Sarrizzo che si accentra e fa partire il sinistro provvidenziale la deviazione di Magri in calcio d'angolo con la sfera che termina fuori di un soffio in avvio di ripresa brutta tegola per il Pineto che resta in dieci per un'ingenuità di D'Angelo che nel tentativo di correggere in porta la traiettoria della conclusione di Sarrizzo prende la sfera con la mano rimediando il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione costringendo così il Pineto in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo ma nonostante l'uomo in meno è ancora la formazione di Rachini a produrre gioco con un Avezzano in difficoltà che non riesce a farsi mai vedere dalle parti di un inoperoso Sciba e al quarto d'ora la formazione di casa sblocca il risultato con l'incornata vincente di Capitano Pepe sull'angolo di Amadio che vale l'uno a zero la reazione dell'Avezzano tarda ad arrivare ed è inconsistente al trentaduesimo il tiro cross del neoentrato quadrana che termina sull'esterno della rete e la fotografia di una domenica sbiadita per i colori bianco-verdi al trentanovesimo vara i correttivi Liguori fuori un difensore di Giacomo dentro una punta Franchi ma l'inerzia della partita non cambia con l'Avezzano che non riesce a produrre occasioni al quarantesimo c'è tensione sulle panchine a farne le spese e il vice di Rachini di Giannatale che viene allontanato dal direttore di gara ultimo sussulto in pieno recupero per Alessandro che è lanciato da Amadio si fa ipnotizzare da Alonzi che aveva preso in corsa il posto dell'ex Fanti tra i pali della porta vezzanese dopo sei minuti di recupero gioisce il Pineto per la terza vittoria consecutiva ottenuta in campionato dopo l'avvento di Rachini con i biancazzuri che domenica prossima ospiteranno la vastese per il secondo derby casalingo consecutivo si lecca le ferite invece l'Avezzano che subisce la seconda battuta d'arresto nelle ultime tre gare ed è chiamato a fare decisamente di più se vuole tirarsi fuori dai bassi pondi della classifica e domenica al Dei Marsi arriva il Matelica dunque questo è il servizio sull'ultimo derby di giornata giocato ieri nel campionato di serie di noi continuiamo a parlare di calcio lo facciamo con il torneo regionale di eccellenza per vedere quello che è accaduto nella giornata di ieri grinta e cinismo il lanciano vola Virtus Cupello che non può nulla contro la formazione Frentana che passa per 3 a 1 sul campo del Cupello vediamo le altre gare Acqua e Sapone Pontevomano 1 a 0 Delfino Flacco Porto San Buceto 0 a 2 Nero Stellati che batte lo spoltore per 2 a 0 vediamo anche le altre partite il Penne che sconfigge nettamente in casa il Capistrello per 3 a 0 Iodice vince la sfida degli ex 3 sberle per il Capistrello e poi Nereto Bagigalupo Vasto Marina 1 a 2 il Nereto si inchina alla formazione Bastese vediamo le altre gare Paterno Alba Adriatica 1 a 3 Torrese Renato Curi Angolana 3 a 1 Agizia Luco Castelnuovo 0 a 1 vediamo ora il campionato regionale di promozione partiamo dal Girone A dove l'Aquila passa a Mociano ed è sola in vetta alla classifica di Benedetto e di Francia firmano il successo espulso il portiere Rosso Blu Ranalletta le altre gare San Gregorio Batte Mutignano 2 a 0 Miano Fontanelle 0 a 3 Montori 88 Pucetta 2 a 1 Celano Nuova Sant'Egidiese 1 a 2 Real Atria Morro d'Oro 1 a 0 Rosetana Pizzoli 1 a 0 Torno in parte Amiternina Scoppito 1 a 2 New Club Villa Mattoni Piano della Lente 0 a 5 Vediamo anche i risultati del Girone B nona giornata di andata Casalbordino inarrestabile con il Bucchianico va in discesa la capolista vince anche in casa della formazione Teatina dunque Bucchianico Casalbordino 1 a 4 Athletic Lanciano Elicese 1 a 6 Fossacesia Valdisangro 1 a 2 Miglianico Ortona 4 a 0 San Giovanni Teatino Fate Rangelini 2 a 2 Ovidiana Sulmona Riano 2 a 0 San Salvo Scafa Passo Cordone 2 a 1 Virtus Ortona Casolana 1 a 1 Silvi Villa 2015 1 a 1 e basta queste le partite per quanto concerne il Girone B Lasciamo definitivamente la pagina del calcio per andare a vedere invece quello che è accaduto per esempio in Formula 1 nel Gran Premio del Messico Trionfa Hamilton Ferrari seconda con Vettel la strategia iBox premia la Mercedes centesimo Gran Premio vinto dalla casa tedesca il podio di Bottas rimanda il titolo per il pilota inglese l'ordine di arrivo così a Mexico City primo Hamilton secondo Vettel terzo Bottas quarto l'altro Ferrarista Leclerc in classifica comanda Hamilton 363 Bottas 289 Leclerc della Ferrari 235 l'altro Ferrarista Vettel poco più indietro al quarto posto con 230 punti anche nella classifica costruttori comanda nettamente la Mercedes secondo la Ferrari terza la Red Bull siamo al campionato di basket alla serie a due maschile di pallacanestro dove Verona batte nettamente Roseto per 82 a 62 senza paura gli Sharks che però devono pagare pegno in casa della capolista del torneo partenza udace con Canca Lattin e Bacheie gli Sharks reggono il confronto poi al quarto tempo la capolista spicca il volo Verona che batte Roseto per 82 a 62 alla termine del match parla coach d'Arcangeli ci è sfuggito il match appunto negli ultimi dieci minuti l'allenatore si complimenta con gli avversari ammette sono fortissimi li abbiamo costretti a faticare vediamo anche il rugby di serie B l'Avezzano batte in casa l'Olympic Roma bene paganica a spese del Messina tornando al basket vediamo quello che è accaduto nel campionato di serie B Esa Chieti deludente prima sconfitta in casa passa a Senigallia la squadra bianco-rossa conferme problemi difensivi patrono Marchesani fiducia ai giocatori ma bisogna reagire Senigallia che batte Chieti a domicilio per 97 ad 86 sfortunato il Teramo un capo a testa alta l'Adriatic Press cede all'occuotato Piacenza Matic non sfrutta l'ultima palla Piacenza che passa a Teramo per 53 a 51 punteggio piuttosto basso e serata da dimenticare per la Globo Giulianova che perde a Fabriano nettamente con la formazione marchigiana che si impone per 87 a 57 30 punti di scarto gara mai in discussione siamo sempre e restiamo sempre al basket la serie C Gold la quinta giornata di andata Lanciano che batte vasto 69 a 58 Magic Chieti Val di Ceppo 61 a 73 vediamo invece che cosa è accaduto nel torneo di C Silver il Pescara è senza freni lo insieguono amatori TASP e AIR e allora vediamo i risultati nuovo basket Aquilano Pescara 50 ad 83 Amatori Mosciano 66 a 63 Teramo Aspicchi Antoniana 70 a 58 AIR Termoli Silvi 67 a 52 Torre Spess Airino Termoli 125 a 24 andiamo ancora avanti per parlare di volley per parlare del campionato maschile di serie A2 prova di forza della sieco impavida Ortona che passa per 3 a 1 sul parquet del Reggio Emilia nelle gare valide per la seconda giornata di andata i parziali 26 24 19 25 18 25 24 26 gara combattuta seconda vittoria consecutiva per la formazione di coach Lanci in serie B Blue Italy battuta a domicilio dall'Osimo in B2 a mani vuoto anche le ragazze dell'Arabona Manoppello ancora ferme a quota 0 in classifica ci avviamo alla conclusione dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 parliamo però di mezza maratona dove si parla della in questo articolo della gara di ieri della mezza maratona all'Aquila e Libri fa il vuoto Scarinci terzo per le vie dell'Aquila in campo femminile la più brava è stata Paola Salvatore in gara rappresentanti d'ambasciata di Russia e Francia il ciclismo Frangioni si aggiudica Luca Allarò a Torano Nuovo secondo Fioretti tra le donne si afferma Elisa Concetto vediamo anche l'articolo in basso il biker Rabuffo si impone a Pretoro Attitude Pretoro Gravity Race piazza d'onore per Jimmy Antonini questa è la pagina dedicata al podismo e al ciclismo siamo così giunti alla termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 Mattino 6 che tornerà domani come sempre puntuale alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito come sempre vi ricordo gli appuntamenti informativi e sportivi della nostra rete per quanto riguarda la giornata odierna per l'informazione alle 14 la prima edizione del TG6 le altre edizioni come sempre alle 19 e alle 23 questa sera come ogni lunedì puntata importante come sempre in diretta dei nostri studi con Replay Replay con Enrico Rocchi per parlare del Pescara dopo la vittoria per 4 a 0 con il Benevento ma è già vigilia e dunque si parlerà anche della gara di domani sera alle 21 a Castellammare di Stabia contro la formazione campana in cui milita l'ex Biancazzurro Nando Del Sole dunque tanti gli argomenti questa sera a Replay l'appuntamento alle 21 per quanto ci riguarda è davvero tutto grazie e buon proseguimento di giornata di giornata che c'è